Amici miei bentornati qui su Mandra Gaming, il canale più action platform nel tubo, action platform perché quest'oggi ci appresteremo a giocare a Train 2, scusate la mia pronuncia che come sapete è quella che è, quindi giocatore singolo, seleziona la storia, Train 2, ok sì perché poi c'è anche il Goblin Menace che dovrebbe essere tipo l'espansione, noi appunto partiamo con Train 2, difficoltà combattimenti, facciamo normale, una cosa tranquilla, ritardo aiuto rompicapo, facciamo due minuti, i personaggi offrono aiuti per risolvere il rompicapo difficile, hardcore mode, che sarebbe meglio di no, facciamo off, avviapartita, c'erano una volta tre impavi di eroi scelti da un manufatto magico chiamato Train, forse già conosci la storia di come divennero campioni del loro regno, no perché il primo noi l'abbiamo giocato, ti narrerò la loro ultima avventura, vabbè se nella foresta stava accadendo qualcosa di magico e misterioso, che cosa? L'inizio della storia, il primo dei tre eroi era Amadeus, il noto rappresentatore, forse non è più il coraggioso potente dei maghi, ma comunque un astuto e sensibile, vabbè, poi c'era il cavaliere Pontius, in trebito protettore del reame, chiamava il buon cibo, la birra e le battaglie, e infine la ladra Zoya, era una misteriosa e furtiva come un'ombra in una notte di nubi, avevo letto un altro nome, ok, possiamo questo saltare? Tanto ci ha detto chi sono i tre personaggi, bellissimo ragazzi, che grafica ragazzi, il mago Amadeus dormiva nella sagabana, dove studiava l'incantesimo della sfera di fuoco, fu fu fu, a riparo dello sguardo severo della moglie, ma perché la moglie non voleva? Ah, com'è sta storia? Oh, guardate ste moglie, oh, oh, porca miseria, oh, moglie, sei tu? No, guardate che grafica ragazzi, un dettaglio pauroso, la luce, la luce, spegni, sto dormendo, e che dormi a culo per aria? Eh, che aspetti, eh? Che c'è? Chi va là? Tu non ti preoccupa, non ti prende pena, movimento muast, come al solito, il classico, ah ok, la V serve per saltare, e anche la barra spaziatrice, per fortuna, altrimenti mi sarei rincoglionito di brutto, ok, qui non sembra che ci sia nulla da prendere, andiamo su, bello ragazzi, che spettacolo, che bello che sei, cazzo, mamma mia, che strano, vivere in un mondo così ragazzi, io voglio andare, portatemici subito, cioè, e lasciatemici possibilmente, salto, V, invece va bene pure la barra spaziatrice ragazzi, oh, i funghi, funghi magici, funghi ti allucinò, no, questa è la pozza di veleno distruttiva? Vai, zoppala, no, ah ok, ok, bello, ho già capito, amica, io sono sveglio, eh, che è la magia? Oh, fighissimo, e che ho fatto? Aia, ma l'ho andata in testa, aspetta, via, a che servi tu, scatola di ferro? Ok, ho preso non so che cosa, sposta il cursore in cima ad un masso, la via era bloccata, ma questo non avrebbe fermato il grande Amadeus, aspetta, sposta il cursore in cima al masso, allora, aspetta, sì, fai levitare un oggetto, prendi il pulsante, figo, abracadabra, abracadabra, e Soraten, addio, ma sto da in testa, aspetta però, devo prendere, bella, ok, abbiamo preso due ampolle su 50, ampolle, vabbè, eh, ok, prendiamo anche questa qui sotto ragazzi, sopra però, sposta il cursore in cima al masso, di nuovo, Amadeus, poteva anche evocare delle casse, eh, l'ho fatto prima senza volerlo, come si fa? Disegna un quadro e rilascia, pensate che mi sono inventato prima, uole, bello, ragazzi, io già adoro questo gioco, io ve lo dico, ve lo dico ragazzi, se vi piace, fatemelo sapere, commentate in tanti, mettete mi piace in tanti ragazzi, e, insomma, scrivetemi che volete questo, che io continui questa serie ragazzi, dimostrate il vostro, come sempre, enorme affetto, ragazzi, che io lo so che voi lo fate perché siete bravi e mi volete bene, allora, vabbè, io credo che quello a fare lì, ma tu puoi venire qua, se io faccio così, non puoi venire, ok, non fa niente, risolveremo in qualche altro modo, allora, niente ragazzi, il mandra si è già bloccato ragazzi, ah, ma la posso disegnare pure più grossa, ma allora dillo subito, ah, bello, ah, bello, ma come sei bello, sei, bello lui, allora, disegniamola enorme, così, bravo, e vai, ok, poi prendiamo anche, ah, io non ti ho tanto in testa, mandra, ah, il mago mandra, aspetta, aspetta, ho cazzerato, ah, ne posso creare una sola, poi l'altra sbarisce, la luce si addentrò nella foresta guidando Amadeus, che l'ha sempre combattuto tra meraviglia e timore, meraviglia ti credo ragazzi, guardate che roba, guardate che cos'è questo gioco ragazzi, allora, ok, credo che debba mettere una cassa qui, e poi zompare, è bella, poi, 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 un'altra cassa, perché io voglio prendere tutte queste belle ampolle, che non so a cosa serviranno, ma sicuramente serviranno a qualcosa di utile, amici, ok, allora, è bellissimo, bello, esigo di sapere cosa succede, una lampada di merda, il Trine, non di nuovo, ah, non di nuovo, perché, perché io non c'ho il primo, cioè, ce l'ho al primo episodio, se volete lo gioco, ma noi facciamo le cose al contrario, vediamo un po', Pontius, Amadeus, fa i bagagli, dobbiamo salvare il regno, cosa, oh, non ci penso nemmeno, Pontius, ho dei figli che mi aspettano a casa e non posso partire, vabbè, vabbè, non lo so, ma serve la tua magia, il regno è finito, finirà mai questo incubo? Non lo so, nonostante le proteste, Amadeus sapeva che gli eroi dovevano rispondere alla chiamata, come sei finito qui, lascia che ti spieghi, pure, ah, ecco, quella sera, Pontius era uscito perché c'erano dei problemi nelle fattorie vicine, i campi erano assaliti dai rampicanti, quindi ragazzi, qui dovremmo guidare tre personaggi in questo platform, troverò il colpevole e gli darò una bella lezione con la mia spada, e ognuno dei tre ovviamente ha delle peculiarità, quindi questa sicuramente è la peculiarità di picchiare i nemici, bello, vai, 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 clicca, pulsante sinistro del mouse, colpisce con la spada, strang, 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 pam, pam, pum, 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 bello, guardate che mondo ragazzi, tieni premuto salto per imbalzare più in alto, vai, con un po' di fortuna per cena ci sarà lo stufato di zucca? Non lo so, non ce l'ho fatta leggere in tempo ragazzi, non l'abbiamo presa, Pontius per lo strano fattoria, ma non c'era nessuno, allora zompa, zompa, e vedendomi i briganti devono essere fuggiti ragazzi, sono saltato oltre l'ampolla, ti prego, non fare la sega, mandra, ti prego, non perdere due ore e mezzo con sta cazzetta, ti prego, e vai, ce l'ho fatta, avete visto la mia innata skill per queste? Dai che prendi pure il secondo, non lo prendi, dai che prendi pure il secondo, l'hai preso, bravo, allora, è finita? No, devo distruggere il carro, no, cosa devo fare? Lo devo portare in avanti, bravo, bravo, spinge gli oggetti pesanti, bravissimo, ok, devo arrivare a questa cosa qua, ok, ragazzi, ragazzi, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, avete visto? 15 ampolle su 50, oh, bello, cambia arma, rotellina, la rotellina, ecco, martello tempesta, figo, blocca con lo scudo, pulsante a testa del mouse, bello, raga, vai, vai, aspetta, da qua sopra mi devo proteggere, mi sa, ecco, chi era? Chi sei? No, non sei un mostro, no, ho svalvolato, raga, ok, ottimo così, chi sei, va, non mi, fammi passare, non mi circonda, no, no, maledetta il bacio, vi faccio vedere io, sono Pontius, vi impavito, non cadrò in battaglia contro dei denti di leone, no, non mi toccare, ma, no, mi, no, mi, no, no, mi, no, mi, no, vaffanculo, eh, ma se vi sto, il trine, Pontius non aveva mai capito come funzionasse il trine, ma sapeva che il manufatto era lì per aiutarlo, va bene, ok, così si sentì felice. Non esisteva missione migliore che salvare il suo regno. E questa è la storia di Ponfio. Quella notte Zoya era nascosta tra le ombre, a riparo dalla luce della luna. Io leggo Troia, ragazzi, mi dispiace, Zoya, Troia, lo so, perdonatemi, ma purtroppo cercherò di togliermi questo nomignolo. E questa è la signorina che sicuramente potrà colpire dalla distanza. Eppure equilibrista, ragazzi, guardate i colori, tira con l'arco, pulsante sinistro del mouse. Vai. Bella. Ragazzi, io mi sono già innamorato di questo gioco. Mi sono già innamorato di questo gioco. Bello, ma posso pure aggrappare. Aspetta, però. No. Io voglio prendere quel coso. Come faccio? Così? E poi? E poi? Oddio, lo faccio? Riesco? Dimmi, che faccio come voglio io? Sìììììi. Sììi, ragazzi. Usa il rampino, pulsante el'esto del mouse. E vai. E va. Zoya attraverso la città silenziosa come un sussurro. Oddio, scaccarato. No. Non ho ancora cazzarato. Ho detto scaccarato, Fate finta che non abbia detto nulla aspetta aspetta fammi prendere eppure questo bravo e poi non ce n'è più qua sopra vero? ottimo non ce n'è più l'importante è quella cazzo ok poi vido una luce che si muoveva in cima alla vecchia chiesa siamo curiosi no aspetta dimmi pure là brava ok ok aspetta aspetta che devo prendere la lampada aspetta aspetta ok oh pericolo amici pericolo oh lala oh lala le c'è sono fette tiè becca ok sempre più in alto amici premi salto sul muro per saltare più in alto quindi tipo no no aspetta le possiamo parlare ok premi salto sul muro per saltare più ah tipo sì no aspetta c'è la lampolla di là the train proprio ora chissà che ci fai qui a notte fonda non sarei mai tornata dai vecchi trucchetti da ladra ladra ho una spiegazione perfettamente razionale ditemi dove andiamo non lo sappiamo ancora sta succedendo qualcosa di strano una nuova avventura quando si parte ragazzi quando si parte l'anda desolata così il train aveva convocato gli eroi e l'avventura stava per iniziare amadeus era in pensiero per la sua famiglia mentre pontius era emozionato al pensiero della missione gioia ovviamente immaginava i famosi dei scioli che avrebbe trovato giustamente da ladra quale è ragazzi non ci mancherebbe altro abbiamo scoperto che è una ladra e ragazzi quindi io spero che questo primissimo episodio di train 2 vi sia piaciuto in tal caso un bel pollicino in su ragazzi commentate condividete il canale condividete il video fate tutto quello che volete pagina facebook link in descrizione ragazzi vi mando un abbraccio buona giornata e al prossimo video amici